oggi vi mostro come vado a incastonare questi bellissimi cabochon di vetro che mi ha fornito un cliente ho adottato la tecnica embroidery che vuol dire ricamo cioè vado a cucire con ago e filo queste perle di ematite color oro intorno al cabochon di vetro prendendo con l'ago due perle alla volta e vado a cucirle su questo supporto sottile ma rigido che si chiama stiff staff finito il primo giro con le perle di ematite proseguo l'incastonatura andando a cucire delle perline in vetro sempre color oro finito il secondo giro userò questi cristalli sfaccettati di 2 mm per 3 per stringere la lavorazione intorno al cabochon di vetro ecco il dettaglio dei cristalli completato il terzo giro vado a stringere ancora l'incastonatura con un quarto giro di perline di precisione bianche taglio lo stiff staff in eccesso ed ecco il cabochon incastonato